Ma vai! Allora! Ma vai via! Ma vai via la signora si pensi che questa è un'agenzia di viaggi! Ah no, ma no! Una giornata tua moglie! Mi fai uscire due parole con il metodomio che conosco io. Vieni, ma ho finito la cucina. E non mi preoccupare, non so, ci sarà tempo e modo, quelli nostri necronomi sono una tassazione. Vieni il capone. Il bue è chiamato con un molasimo.